In questa emergenza gravissime difficoltà, grandissimi disagi li stanno vivendo anche gli agricoltori, le aziende agricole e gli allevamenti che sul nostro territorio in molti casi sono ancora isolati, le squadre di soccorso non sono ancora state in grado di raggiungerli. Pasquale Cantoro, possiamo fare una sorta di quadro, anche se approssimativo, delle realtà maggiormente in difficoltà e per le quali c'è bisogno di aiuto immediato? Innanzitutto sono tutti i comuni Pedemontani, Arsita, Castelli, Isola, Montorio, Crognaleto, tutti i comuni alti, Torricella, Cortino e più in alto. Là dove ci sono allevamenti sono venuti, non in tutti i posti, ma sono crollate le stalle, sono crollati i fienili, là dove non sono crollate le stalle magari sono venuti giù i fienili. Quindi animali morti e animali senza alimentazione. Gli allevatori si muovono con grossa difficoltà anche all'interno dell'azienda, quindi nel poter utilizzare le scorte che hanno fatto quest'estate per poter alimentare le stalle. Adesso ci si sta attrezzando insieme alla protezione civile, alla regione e tutti gli interessati a fare dei rifornimenti di pronto intervento, però reputo che prima di domani mattina non sarà operativo su vasta scala e questo è un problema. Sì perché ogni minuto che si ritarda ovviamente le difficoltà aumentano ancora di più, in particolare di cosa può esserci bisogno in questo momento proprio per il rifornimento dei mangimi, dei foraggi? Sono gli alimenti, foraggi, quindi fieno e mangimi, sfarinati, cereali, queste le cose principali, acqua diciamo che comunque c'è la neve e si sopperisce, queste sono le cose principali. Poi c'è un altro problema, questo vedremo gli effetti nei prossimi giorni, tutte le stalle da latte che non hanno avuto energia elettrica, le vacche in lattazione hanno preso tutti quanti la mastite, quindi il latte non più idoneo, quindi vacche non più idonee alla produzione e quindi avremmo una perdita secca di quasi tutta la produzione del latte in provincia di Teramo e nelle zone anche del Pescarese, del Chietino dove è venuta tanta neve e ci sono problemi anali dei nostri. Nei giorni scorsi è venuto anche il ministro dell'Agricoltura Martina per rendersi un po' conto della situazione, ovviamente questa gravissima emergenza lascerà il segno per il comparto dell'economia agricola e dell'allevamento sul nostro territorio? Assolutamente sì, il ministro Martina non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione veramente disastrosa e si è impegnato a mettere in piedi un sistema derogatorio di norme obbligatorie perché altrimenti entreremmo in un circolo vizioso del burocratico che non se ne esce veramente, non ne escono più vivi nemmeno gli allevatori oltre che al loro bestiame per permettergli innanzitutto alle aziende di beneficiare degli aiuti per i quali hanno fatto domanda anche senza istruttoria per far arrivare liquidità e poi credo che domani si incontri a livello di Unione Europea per vedere di attivare questo regime di superamento delle norme in via transitoria e ci è sembrato molto molto deciso, dobbiamo ringraziare anche l'assessore all'agricoltura che prontamente ha contattato il ministro che è venuto qui per ovviamente venuto a te Roma, per tutto l'Abruzzo, per tutta la regolpita